Salve a tutti i miei attenti ed eccoci qui in questo nuovo episodio delle classi di Oxanata Oggi parleremo degli archetipi del Ranger Questi archetipi diciamo hanno un problema di base, sul class sono quelli del manuale del giocatore Già il maestro del best aveva le sue difficoltà, il cacciatore è estremamente situazionale Cioè dire che il cacciatore se il master fa una campagna dove tu sfrutti sempre le tue tecniche E' comunque sempre il più performante perché hanno situazionale E qui invece questi archetipi sono molto più duttili Sono per tutte le situazioni, c'è un poco tra virgolette situazionale Quindi diciamo mi piacciono più perché il limite delle loro capacità è la fantasia del giocatore Sono leggermente più forti non notando niente che li spezza Diciamo che proprio li rendono devastanti Andiamo a vederli, come sempre in ordine Il cacciatore delle tenebre è il primo archetipo Il cacciatore delle tenebre già dal nome è il Ranger che si specializza diciamo nel combattere nell'oscurità Rifugge la luce proprio ma non vuol dire che è malvagio E' solo che ha il suo stile di vita, la sua scelta di combattimento E combattere nelle tenebre ha i suoi grandi vantaggi Anche perché le sue capacità sono legate a questo E' veramente forte nel suo ambito Andiamo a vedere perché Gli incantesimi che prende Mi prende uno aggiuntivo ogni slot diciamo Sono caunfare se stesso, trucco della corda, paura, vista superiore e sembrare Cantesimi ovviamente, trucco della corda per rifugio, paura, per spaventare gli altri Cambi di sembianze, ti nascondi, fai sembrare cose che non ci sono Molto su ovviamente la manipolazione che gli ritorna Tutto utile per le capacità che prendi La capacità più forte che prende il scheletro è l'imboscata terrificante Intanto aggiunge la sua saggezza iniziativa E questo è molto importante Il primo turno di combattimento La sua velocità aumenta di 3 metri E può sferrare se fa azione l'attacco o un attacco extra Con le armi ovviamente Se quell'attacco colpisce fa un diotto danni extra Questa cosa è bellissima Perché è chiaro che è fatto per le imboscate È fatto per la guerriglia Cioè vai là, colpisci, fuggi Vai anche più veloci Tipo sezioni È utile sia in mischia che a distanza Ci fai qualsiasi cosa È devastante in un gruppo che sfrutta questa capacità Cioè hai membri del gruppo che hanno furtività Posso venire con te Fate un agguato, fuggite Logolate gli avversari Cioè se sei smart Se fai ottime imboscate Puoi sconfiggere gruppi numerosi Metterli anche in fuga spaventandoli Perché è sempre un gioco di ruolo Nel senso che Se gli avversari Sono anche in tanti Ma vedono che i loro compagni Muogliono come mosche Non riescono a capire chi colpisce È chiaro che non andranno A suicidarsi Fuggiranno Dopo certo Prendono sempre situazioni Fatto sta che questa tattica di guerriglia Con imboscate È sempre Una delle mie preferite Perché porta ad ottimi risultati Specialmente nei dungeon Dove lui è Diciamo il maestro Anche solo il fatto di riposizionarsi Una posizione di vantaggio Come entrorelevato Come una copertura C'è tanto vantaggio Cioè Ti fa vincerlo scontro Veramente Sempre al terzo Infatti qui Io muoverei una critica Perché queste capacità così forti Tutte all'inizio Cioè È veramente Un po' esagerato Però È il suo lavoro Questa è situazionale Vista dell'ombra Prende subito Scubi sono 18 metri Quindi Utilissima per tutte le razze Che non ce l'hanno Lo acquisisce 9 metri in più Quindi un altro Paggio tattico Perché non tutte le razze Vedono Oltre i 18 metri Se prendi Quelle razze particolari Che vedono così lontano Tipo il draw Praticamente Vedi solo Tu vedi gli altri Gli altri non ti vedono E quindi Ancora in più imboscata Ancora più facile Perché Quello spazio di manovra Veramente fai tanto Per preparare delle trappole Oltre che in imboscata Cioè Cose incredibili O come puoi semplicemente Fuggire Inoltre La capacità più forte Nella Oscurità Le creature che si affidano A scurovisione Non lo vedono Punto Come se fosse invisibile Quindi È chiaro che In certe situazioni Che trovano solo Oscurovisione Non si aspettano Ranger Non lo vedono De un accendere la luce Se no Saranno Sempre in difficoltà Questa È Sì situazionale Ma nell'oscurità Lui è Il padrone Perché se non c'è Una fonte di luce Lui è sempre invisibile A meno che gli altri Non vedano Con viste cieche Altre capacità Sa affidare all'olfatto Per carità I mostri Ne hanno più Chi ne ha Pi ne metta Però In condizioni normali Lui Comanda Al settimo Mente di ferro Capacità difensiva Molto bella Perché Prendi competenza Un tiro salvezza Che Inizialmente Saggezza Se hai competenza Su saggezza Di salvezza Che è Possibilissimo Per via di talenti Altre capacità Puoi scegliere Intelligenza O carisma Molto Competenza Di salvezza È sempre una cosa Estremamente utile Specialmente Nella quinta Quindi Capacità molto forte All'undici Raffica del cacciatore Questa Nye Per essere di undici Un pochino Soffre Però è Comunque sia una classe Che già prende Che tantissimo Ci sta Essenzialmente Quando lui fa Il suo attacco Per una volta Ogni suo turno Se fallisce Un attacco Lo rieffettua Fa un altro attacco Quindi È una possibilità Di ricolpire Cosa che Se colpisci sempre Non serve Assolutamente A niente Di bonus Che ha Ricordo Il vantaggio Il fatto Che attacca Che altri Non lo vedono È Non tanto utile In realtà Ripeto Se no Sarebbe Un po' Esagerata All'undici Ascrivate Dell'ombra Quando viene colpito Se la creatura Non ha vantaggio Il regio Può usare La sua reazione Per dare Svantaggio Al tiro Per colpire Questo devi usare Questo privilegio Prima che Sare il risultato Ovviamente Quindi È utile Parecchio In realtà Perché tu Ci sei sempre La tua reazione Per debilitare Uno degli attacchi Avversari Ogni round È gratuita Gratuita nel senso Che non ha ricariche Quindi ce l'hai Ogni reazione È Capista difensiva Non è Capista di quindici Esagerata Quelle del ladro Che di mezzo Sempre danni Comunque Ti può salvare Qualche colpo E Ci sta Diciamo che Il cacciatore Da tenebre Il zucco Il punto forte Li prende I primi sette livelli C'è poco da fare Andiamo All'uccisore di mostro Il secondo archetipo Un altro archetipo Veramente bello Classico Cacciatore di mostri Quindi ha capacità Contro tutte Le creature Diciamo Mostruose Infatti Ci va a cercare Vampiri Draghi Folletti Malvagi Mondi Nacce magiche Qualsiasi cosa Che è orribile E come farà mai Un'applicazione A fare questo Con lo studio È carina Questa cosa Prende in grandessimi Molto vari Tipo Prosezione del male Dal male Zona di verità Circhio magico Esili E bloccamostri Cose molto protettive Tranne bloccamostri Che per fermarlo Per dare Diciamo Il fine al combattimento Subito Colpi di grazia Perché ogni colpo Che fai Quando uno è bloccato È critico Sono capaci Da Molto utili Cantesimi Scusate Molto utili Altre Anche lui Subito Il suo Fulcro La percezione Del cacciatore Semplicemente Lui C'ha Un tot Utilizzi Che è pare Un'unica Saggezza Al giorno Minimo uno Non specificato Perché magari Puoi fare La grande Saggezza Scelte E Semplicemente Lui Sceglie Un bersaglio Con un'azione Scopre Entro 18 metri Tutte le sue Resistenze Immunità E vulnerabilità L'unica cosa Che lo protegge E se ha Schermature Contra divinazioni Questa cosa È veramente Forte Tu sai Punti forti E punti deboli 15 puoi giocare Sopra 15 Troi compagni Solamente Guardando Con un'azione L'hanno limitata Questa causa Perché è veramente Forte Nel senso Che la fai Poche volte Al giorno Però Una volta Che le sai Tu Te le appunti E magari Sai che Quel particolare Tipo di mostri Hanno quello È quello Che forte Più tempo passa Più tu ti fai Tutta la tua lista Di queste Vulnerabilità Senza dover Far test Senza Ma so sicuro Non so sicuro Magari Lo sai Sempre il tre C'era per L'Uccisore Questa è una capacità Della quarta Praticamente Uguale Alla valizione Del warlock Della quarta Entro 18 metri Sceglie Una creatura Il primo attacco Che fa ogni turno Mi fa un D6 Danni extra Punto La può fare Quante volte vuole E può cambiare Cioè la capacità Finisce Quando cambia Un'altra creatura La disegnazione L'azione bonus Forte Si Gli aumenta i danni Sono un D6 Ma ogni attacco Un D6 Ce l'ha sempre La distribuisce Come vuole Diciamo che Un burst di danno Proprio Che ci sta Su un cacciatore Sono un Cesar Di monstri Tipiche capacità Da assalitore Come il ranger Al 7 Andiamo a vedere La difesa Sopranaturale Questa È Molto forte Capacità difensiva Bellissima Praticamente Quando disegna La sua preda Oltre che Il bonus di danno Prenda anche Delle difese Quando Deve fare un tiro Salvezza Contro l'effetto Della preda O deve sfuggire Alla lotta Tira un D6 E l'aggiunge Al tiro Quindi D6 Può essere Uno Come può essere Sei Può salvarti Come non può Aiutarti Comunque È una capacità Difensiva All'11 Nemici Degli incantatori Questa è Bellissima Infatti Ha solamente Un uso Ogni riposo Breve o lungo Quando un Qualcuno Insomma Perché un incantatore È molto generico Può essere anche Un mostro Che fa una capacità Magica Lancia un incantesimo O si teletrasporta Entro i 18 metri Dal ranger Lui può fare Un disturbo magico Chiamiamolo Bellissimo Deve fare un tiro Salvezza Saggezza Alla creatura Contro Ovviamente Salvezza Il suo bersaglio Che è su saggezza Quindi È un'ottima caratteristica Non ce l'hanno tutti L'ultimo Forse il più bello Il 15 L'avevo fatto Per una classe Del genere Contrattacco Degli uccisori Lui come reazione Può fare Un contrattacco Scusate Quanto volte Può farlo Ah Può farlo sempre Non sembra giusto Se il bersaglio Apparello uccisore Quest'ultimo Può fare una reazione Per attaccarlo Quindi ogni volta Che il corsegno Fa un tiro salvezza Lui può fare La reazione Per attaccarlo Ricordo che Ci sono anche Armi di stanza Se colpisce Supera Automaticamente Il tiro salvezza Cioè Capite Quanto è forte Quanto è devastante Questa capacità È di 15 È diciamo Quella Che conclude La classe Ed è Sia difensiva Che offensiva Ci sta Ci sta Andiamo avanti L'ultimo È il viandante Dell'orizzonte Un'unica classe Che è un po' Specializzata Perché diciamo Quella per L'oscurità Facile che la sfrutti Questa Contro i mostri Contro gli incantesimi Facile che la sfrutti Quasi tutti gli scontri Questo evento Dell'orizzonte Ha a che fare Con i portali Con i piani Quindi è Situazionale Perché se giochi Una campagna Che non ce li ha Hai una capacità Completamente inutile Però Le sue capacità Sono anche utilizzabili Fuori da questo contesto Tranne una Vedanti l'orizzonte È un ranger pianale Qualcuno che viaggia Che aiuta Le persone Che si specializza Contro Infatti c'è scritto Draghi Folletti Elementali E aiuta A preservare la vita È amico Anche di queste forze Cioè Fali tutto Al terzo livello Prendi gli incantesimi Che hanno a che fare Con Ovviamente Teletrasporti Spostamenti C'è protezione Bene dal male Passo velato Velocità Esilio E circa quei teletrasporti Molto Molto utili Al terzo Può trovare i portali Entro un chilometro e mezzo Come ho detto Se non ci sono Se non si utilizzano È inutile Però Se ci sono Se si utilizzano Se si cercano Proprio quelli Diventa Vitale Anche perché Non deve fare prove E lui Li trova Serba al terzo Prende combattente Planare Capacità Molto carina Semplicemente Potenza I suoi attacchi Con l'energia Del multiverso Il fatto che viaggia Gli fa imparare Tante cose Come azione bonus Al creatore Dentro 9 metri Quando la colpisce Col prossimo attacco Fa un diotto Dani da forza E tutti i danni Da forza Di quell'attacco D'armi Quell'attacco Di vento Da forza Molto utile Contro certe creature Che possono Prendere resistenze O che magari Subiscono i danni Da forza Il ranger All'undicesimo Ammita i danni A 2 diotto Praticamente Fa questa Capacità Ogni round È il suo boost Di danni Ha un solo attacco Ci sta Molto utile E diciamo Visto che non ha Grandi capacità Come le altre classi Ha Più danni A un singolo attacco Al settimo Prende il passo Eterio Come azione bonus Può lanciare Forma Eteria Senza spendere Slot Per un round Recupera Questa capacità Di poso breve Di poso lungo Che significa Che per un round Può passare Attraverso gli oggetti Quindi Ignora la lotta Quindi passa Le pareti È solo un round Non mi sembra Poco Non mi sembra Anche perché poi È gratuita Nel senso che Non spende niente La sua Può essere Secondo me Sempre utile Perché diventando Mi sembra anche Eterio Si può spostare In ogni direzione Mi sembra Se una tre Era così Una quinta Non sono sicurissimo Che se fosse così Anche qui Serve anche a superare Ostacoli Nel senso Posizione sottoelevata O sottoelevata Per subito Toglierti Magari di danni Da caduta Può fare Qualsiasi cosa All'undici colpo distante Ah Questa è molto bella Ogni volta Che lui fa un attacco Si trasporta Di tre metri Un attacco Quindi Minimo a due attacchi Ok Quindi è un trasporto Di sei metri Sfalzato In due step Quindi Trasporto Ricordo Gli attacchi L'opportunità Ignora Barriere Può andare dove vuole L'altezza O giù Scendere In basso Se il ranger Bella questa cosa Attacca due creature diverse Può fare Un altro attacco Contro una terza creatura Quindi anche un altro Trasporto Molto molto carino Perché poi Possono essere Sia in mischia Che a distanza Al quindici La capacità finale La difesa spettale Molto semplice Quando subisce i danni Può usare una reazione Per Prendere resistenza A tutti i danni Quindi Dimezzarli Di quell'attacco È molto simile A quella del ladro Solo che il ladro Sono gli attacchi Mirati Questa proprio Prende resistenza A tutti i danni Quindi è La capacità di quindici Ti rende Molto più resistente Questi erano Gli architetti Del ranger Forti Forti Alcuni Meno situazionali Di altri Diciamo E ovviamente Consigliato Perché il ranger Viene sempre Un po' Bisfrattato Nelle tradizioni È da molto Sotto tono È stato di fatto Completamente Sono fatte Le correzioni Anche nella quinta Ho visto Stanno facendo le correzioni Al maestro delle bestie Perché Niente È utile Solo al terzo livello Poi basta Non conviene Completamente Cambiare classe Quindi diciamo Che Io l'ho provato Il ranger L'ho provato E sì Conviene multiclasse Perché Andando avanti Ha sempre Un po' di pecche Con questi archetipi Prende colore Prende vita Prende forma E poi Diciamolo Il ranger Prende tantissime Tantissime capacità È un po' Posso far l'esempio Il bardo Dei combattenti È estremamente Eclettico Abilità Capacità Di classe Molto varie Adesso non è più Così specializzato Sulle creature C'è anche i terreni Se si gioca In maniera narrativa Se si gioca Sfruttando tutto questo E non solo Combattimenti Nudi e crudi E lui è Il motor del gruppo Cioè lui è quello Che ti tiene veramente in vita Che ti evita i pericoli Che ti dà il boost Per andare avanti E fa il migliore Aguati di tutti Lasciando perde Le classi Più propense Lui Con il fatto Conosce il terreno Può fare le trappole Capite Furtività È una cosa Che ritorna sempre utile Secondo me Per il ranger Perché Un combattente Che usa sia L'estreza che forza Se non addirittura Solo l'estreza pura Per risparmiare caratteristiche Può fare quel che vuole Mi è sempre piaciuto Mi è sempre piaciuto Particolarmente Per il fatto Non che è legata Alla natura Che sa fare Tantissime cose Anche gli incantesimi Che non fanno schifo Quindi Concludo Dicendo che Anche queste Come tutte Le classi De rock Sono molto belle Da provarsi Fatemi sapere La vostra Commento Il mi piace Che mi aiuta sempre La condivisione Specialmente Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti